Ben tornati a Padre Gruner risponde la trasmissione di Fatima TV dove cerchiamo di dare una risposta alle vostre domande che come ricordo sempre potete inviarci via mail all'indirizzo domande chiocciolafatima.it. Oggi la domanda è piuttosto lunga quindi la riassumerò un po'. Il nostro telespettatore ci chiede l'Umi su di un noto blogger conservatore per così dire, un giornalista cattolico che ha recentemente chiesto scusa per aver citato le parole di un cardinale che aveva criticato Papa Francesco, il cardinale Burke. Ora il sinodo già e di per sé è stato abbastanza scandaloso. Parliamo del sinodo sulla famiglia giusto? Sì, quello del 2014. Hanno pubblicato una relazio intermedia cosiddetta, un documento che propone l'ammissione nella chiesa agli omosessuali. Non persone che sanno di avere un vizio e che cercano di combatterlo, ma proprio omosessuali dichiarati che non hanno alcuna intenzione di smettere. In quel documento si arriva a dire che bisogna riconoscere il valore di quell'orientamento sessuale. Già, e a quanto pare Francesco concorda con tutto questo? Sì, non l'ha mai negato. Mai negato. Ed è proprio quello che... Che cosa assurda? Sì, è proprio quello che sta dicendo il cardinale Burke, cioè che il Papa deve fare chiarezza e per il fatto che ancora non sia riuscito a farlo... Sta causando gravi problemi alla chiesa. Esatto, enormi problemi per la chiesa. Beh, il cardinale Burke ha avuto proprio ragione ad averlo detto in pubblico. Sì, lo ha detto pubblicamente e ha invocato una... Sì, ma la verità è che qualunque giornalista cattolico degno di questo nome e che non sostenga Burke in questa sua battaglia sta sbagliando. Anche se si va a confessare pensando di aver commesso un errore, in realtà è lui ad aver sbagliato nel criticarlo. Sì, ma spieghiamo prima cosa è successo. Questo giornalista è molto famoso. Pubblica ogni giorno, o quasi, dei video su YouTube ripresi dall'esterno della città del Vaticano. In questo caso, 24 ore dopo aver postato un video a sostegno di Burke, lo ha rimosso e ha poi chiesto scusa pubblicamente per aver citato quel cardinale che aveva usato criticare il Papa, affermando inoltre d'essersi confessato per questo grave peccato, come lo ha definito lui. Non ha detto ciò che gli ha risposto il suo confessore. Se però quest'ultimo non gli ha detto che non aveva fatto nulla di male, allora dovrebbe cambiarlo. Beh, è chiaro che il telespettatore che ci ha scritto non ritiene che quel giornalista abbia fatto la cosa giusta. Certo che no. Ecco, padre, secondo lei com'è possibile ragionare così? Allora, chiariamo innanzitutto che il comportamento di questo giornalista vaticanista è sbagliato e va stigmatizzato. Probabilmente questa persona non è davvero cattolica. Forse pensa soltanto di esserlo, mentre in realtà non lo è affatto. Il punto è che per essere fedeli nell'unica vera Chiesa fondata da nostro Signore Gesù Cristo, dobbiamo aderire alla fede cattolica nella sua integralità. Non me lo sto inventando io. Sono punti fondamentali che recitiamo quando pronunciamo il simbolo degli apostoli ed il simbolo atanasiano, il credo. Se volete avere salva la vostra anima, dovete attenervi alla fede cattolica, salda ed inviolata. Ora, a maggior ragione una persona educata che conosce bene la fede e la dottrina della Chiesa, come questo giornalista, non può non sapere che è sbagliato criticare il cardinale Burke nel momento in cui quest'ultimo dice una cosa vera. Anche il Papa avrebbe l'obbligo morale di chiarire la questione, eppure non lo fa. E il suo silenzio nuoce gravemente alla Chiesa. È un fatto incontrovertibile, abbiamo il dovere di affermarlo. A sbagliare sono coloro che censurano le parole di Burke. È assolutamente sbagliato infatti andare a confessarsi per aver difeso il cardinale Burke alla TV. Ovviamente, non essendo io il confessore di questo giornalista, non conosco i particolari di questo suo peccato, ma posso tranquillamente affermare in pubblico che tutti, a maggior ragione un giornalista cattolico di chiara fama, che dovrebbe conoscere la propria fede a menadito, ha il dovere di confessarsi per l'esatto contrario, cioè per aver criticato Burke, un cardinale che stava dicendo la verità. Io credo che il suo confessore debba spiegarlo al più presto a questo presunto giornalista sedicente cattolico, e se non lo fa, allora anche lui farebbe bene a ripassarsi i dogmi cattolici ribaditi, tra l'altro, da Sant'Alfonso e Sant'Omaso, da grandi teologi come il Bellarmino. Il cardinale Torquemada. Esatto, anche lui. Tutti loro hanno affermato che è dovere di ogni cattolico parlare con chiarezza. Anche contro un papa, se necessario, per difendere la verità. Burke ha solo fatto il suo dovere, non che io concordi sempre con ciò che dice, ma in questo caso sì, e pienamente. Beh, mi ricordo che a metà degli anni Ottanta, il teologo carmilitano padre Joseph de Saint-Marie, che aveva collaborato lungamente con Giovanni Paolo II, anche se in modo gentile e rispettoso, ebbe a criticare proprio l'operato di Papa Voitila. Se non erro, arrivò ad affermare che, nella nostra epoca, uno dei segni delle condizioni straordinariamente anormali in cui versa la Chiesa di oggi è dato dal fatto che, spesso, quel che proviene dalla Santa Sede deve essere vagliato con prudenza e discernimento. Un eufemismo per dire, state attenti a ciò che dice il Vaticano. Certo, parlava in modo velato, ma il significato era chiaro, è assolutamente vero. Il fatto che abbia usato modi diplomatici per farlo non toglie che egli abbia detto la verità, così come stiamo facendo adesso noi, in merito a questo sinodo straordinario secondo il quale adesso gli omosessuali... Sì, andrebbero ammessi, lo hanno scritto. Beh, se davvero arriveremo a questo, se davvero un documento sinodale invoca l'entrata degli omosessuali praticanti in seno alla Chiesa e quindi alle Eucarestie, ebbene, non ho problemi ad affermare che non si tratta di un insegnamento cattolico. Possiamo essere dispiaciuti per queste persone, possiamo pregare per la loro conversione, ma qui stiamo parlando di permettere loro l'Eucarestia. Questo sì, davvero un peccato grave. Già. Si tratta di un peccato di parola, così come praticare l'omosessualità è un peccato di opera. Si tratta di un chiaro insegnamento della Chiesa Cattolica. Anche l'arcivescovo del Kazakistan, Atanasius Schneider, ha detto durante un'intervista di aver preso quel documento del sinodo e di averlo fatto letteralmente a pezzi. Lo ha stracciato con le sue mani, dichiarando che, secondo lui, la cosiddetta relazio intermedia si fa promotrice di un'ideologia neopagana. Già. Purtroppo è il Papa a permettere tutto questo. Mi dispiace doverlo dire, ma se un padre permette ad un'ideologia neopagana di venire accettata dai suoi figli, ebbene, questo significa che è venuto meno al suo dovere più importante. Ed è un grave peccato. Ha maggior ragione per il Papa, che è il capo della Chiesa Cattolica. Egli deve intervenire e affermare che questo documento non è cattolico e non può essere accettato. Eppure non l'ha mai fatto, almeno non fino a oggi. Ma proprio chi conosce la fede, a maggior ragione, se si tratta di un vescovo o di un cardinale, egli ha il dovere di parlare in sua difesa. A favore della verità. Esatto. E se è necessario di affermare che il Papa ha sbagliato. Sì, stiamo criticando il Papa e ne abbiamo il diritto se non sta facendo il suo dovere. I suoi silenzi sono di scandalo per i fedeli. Sì, ce lo insegna lo stesso San Pio X nelle righe di apertura della sua enciclica contro il modernismo. I papi hanno il dovere di parlare, di insegnare la verità e di combattere l'errore. Se non lo facessi, io stesso sarei venuto meno al mio dovere più grande. Ed è qui che sta il fallimento di Papa Francesco e a questo proposito quanto mi piacerebbe sapere cosa ne pensa Benedetto XVI di tutto ciò. Anche a me. Non ha detto molto fino ad oggi. È stato piuttosto guardingo. Ma anche tutti i cardinali, solo Birka, hanno il dovere di parlare con chiarezza. Fino ad oggi, in pratica, solo Birka lo ha fatto e di questo Dio gliene renderà merito, anche se viene criticato ed ostracizzato per averlo fatto. Ma sta solo facendo il suo dovere. Esatto. Purtroppo questa è la situazione in cui ci troviamo. Il giornalista che aveva riportato le parole di Birka aveva fatto la cosa giusta e non avrebbe mai dovuto smentirle. Anzi, penso che abbia perso molta della sua credibilità come giornalista. O per quanto mi riguarda, l'ha persa tutta. Non possiamo più definirlo un cattolico ortodosso. Forse al massimo un ignorante, un cattolico ignorante, ma non di più. Ma una persona che è ignorante della propria fede non dovrebbe cercare di insegnarla ad altri, non trovi? Certo. Ad ogni modo, penso che siamo riusciti a rispondere adeguatamente alla domanda del nostro telespettatore. Con questo è tutto per oggi. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.